Come ti chiama? Sumorut Vieni Andiamo Vieni Cosa c'è? Cosa stai leggendo? Ascolta C'era una volta nella città di Bagdad Un giovane molto bello Un suonatore di liotto Un giorno che era davanti alla sua porta Nureddin O mio dolce Nureddin Venderai questo panno al mercato Ma evita l'uomo vestito di azzurro Signora Guardate fammi bello Dammi duecento dinari Ti offro mille dinari Bambini Dami un giovane La stai lontano Dami 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 Grazie. Grazie. Grazie.